Con GT2 Nettuno è tornato nel suo ambiente naturale, la pista dove tutto è iniziato. Dal mondo racing infatti abbiamo preso la tecnologia della convulsione a precamera che abbiamo domato durante lo sviluppo della vettura stradale e che adesso è libero di sprigionare tutto il suo potenziale. La nuova linea di scarico racing permette anche di estremizzare quello che è il sound di Nettuno. 730 Nm e 630 CV, i target che gli ingegneri di Maserati hanno dovuto garantire per tutti i circuiti e tutte le condizioni in giro per il mondo.